Sì, perché uno come Pannella spunta ogni secolo e quindi anche a chi l'ha combattuto un avversario di questa forza, di questa lealtà, manca e mancherà. Pannella ha inventato in Italia il movimento per i diritti civili, ovvero sia la scoperta per l'Italia che fosse più moderna e più matura di quanto gli stessi italiani pensassero. Ci è voluta la determinazione, il coraggio, anche il rischio personale che Pannella e i radicali di quel tempo si sono presi per imporre delle riforme che hanno reso l'Italia migliore. E poi ogni volta che si vedeva un radicale che faceva uno sciopero alla fame, una manifestazione non violenta, non la faceva mai per sé, la faceva per ottenere delle leggi nell'interesse di tutti. E da oggi è una pagina dolente, ma è incancellabile quello che ha fatto Pannella e quello che ha insegnato gli italiani in termini di coraggio e di onestà personale. Onestà personale. Tutto sommato le diverse generazioni di radicali che hanno preso tante strade nella politica italiana e nella società hanno questo elemento comune che scaturisce dalla integrità di Pannella.